Non possiamo partire come siamo partiti, perché siamo partiti veramente male, e non va bene questa cosa, guarda lì come sbaglio completamente il lancio, va bene, va bene, pigliamo qua la casseruola. No, l'ho mancata, ma stai scherzando, lag di merda, dai! Questa finirà tra le clip, l'ho mancata lag di merda, va bene, però siamo riusciti a recuperarla, perfetto, c'è finita bene, c'è finita bene. Abbiamo un sacco di materiali, signori, quello sì, ma...